È proprio vero che non si smette mai di imparare, infatti oggi sono qui a farvi un contenuto per raccontarvi di come ho imparato a utilizzare in maniera ottimale i valori ISO sulla mia fotocamera. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia ed è con un certo imbarazzo che vado oggi a realizzare questo contenuto per spiegarvi che ho imparato solamente adesso a utilizzare correttamente i valori ISO, o meglio, i valori ISO sono sempre corretti a seconda di quello che stiamo facendo. È difficile che abbiamo completamente sbagliato, possibile ma difficile, però esistono diversi modi per ottimizzare le prestazioni a seconda di quello che vogliamo ottenere. Ebbene oggi andrò a raccontarvi di un metodo molto molto semplice che ho sperimentato e per me funziona molto bene, un metodo con cui vado a ottimizzare le prestazioni e a ottenere quindi fotografie con meno rumore e una gamma dinamica non proprio sacrificata. Prima di proseguire vi ricordo per chi non fosse già iscritto che potete farlo subito cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella siete tranquilli di non perdervi gli aggiornamenti. Vi ricordo che io spesso e volentieri rispondo con degli shorts ai vostri commenti e alle vostre domande, per cui è altamente consigliato che vi iscriviate, se no magari vi perdete una risposta che vado a dare a un commento che mi avete lasciato. Ok, la prendo un po' larga, partiamo dall'inizio. Nel momento in cui ci dotiamo di una fotocamera digitale una delle prime cose di cui ci rendiamo conto è che le possibilità per impostare la nostra esposizione sono veramente molto varie. Infatti a differenza della pellicola dove noi potevamo ragionare in stop, qui abbiamo la possibilità di ragionare anche per terzi di stop, quindi significa che abbiamo degli step intermedi che ci permettono di essere molto più flessibili sulla nostra esposizione, ci permettono di raggiungere un risultato migliore, perché andiamo a ragionare per terzi di stop invece che per stop interi. Questo vale per tutti quanti i parametri ed è un grosso vantaggio. Ecco però che dobbiamo assolutamente notare una cosa, esiste la possibilità sulla maggior parte dei nostri dispositivi fotografici di decidere che invece gli ISO vogliamo continuare a usarli per stop invece che per terzi di stop. I parametri ISO sono proprio separati dal resto dei parametri dell'esposizione e io mi sono domandato a lungo perché e solamente di recente dopo uno studio un pochino più approfondito mi sono dato una risposta. Il motivo è estremamente semplice, ragionando con i vecchi dispositivi noi avevamo a disposizione delle pellicole e quindi avevamo a disposizione un solo valore che era il valore ASA che poi è stato cambiato con lo standard ISO. Quindi noi mettevamo una pellicola e quella era, perché la sensibilità di quella pellicola era quella, quindi era 100 ASA, 400 ASA se volevi scattare di notte e quindi la sensibilità era stabilita dal rullino che mettevi. Con il digitale noi abbiamo la possibilità di variare questa sensibilità, quindi è come se cambiassimo un rullino, una comodità incredibile. Però quando lo facciamo stiamo sottoponendo la nostra macchina a un leggero stress, nel senso che ogni volta che aumentiamo la sensibilità ISO stiamo chiedendo alla nostra macchina di fare uno sforzo in più, le stiamo chiedendo di amplificare il segnale perché la luce è quella. Quindi la luce è quella lì e la nostra macchina non può aumentare la luce, possiamo aprire noi una finestra o aumentare l'intensità di una lampada o avvicinare una fonte luminosa, però se non possiamo farlo la luce è quella. E quindi noi stiamo chiedendo alla nostra macchina di amplificare quel segnale quando aumentiamo gli ISO. Abbiamo degli ISO base, che di solito sono ISO 100 o ISO 50 su alcuni modelli, e una volta che noi amplifichiamo il segnale andando ad aumentare gli ISO stiamo fondamentalmente dando un boost al segnale in maniera tale che la nostra fotocamera sia in grado di catturare un'immagine che sembra più luminosa. Ovviamente per fare questo la nostra macchina sta facendo più fatica e il risultato è che andiamo a perdere un po' di gamma dinamica e a introdurre un po' di rumore. Ovviamente dobbiamo valutare i costi e i benefici di questa cosa perché se non abbiamo luce è meglio una foto con un po' di rumore piuttosto che una foto completamente nera. Da notare però come i primi modelli avessero molta meno possibilità di personalizzazione da questo punto di vista. Infatti c'erano i classici stop, quindi ISO 100, 200, 400, 800, 1600 e talvolta 3200. Adesso lasciate perdere le espansioni, quelle sono robe del marketing per farti vendere. Quando vedi ISO 1002.700, cioè quelle sono stupidate del marketing. Se scatti a ISO 1002.000 c'è qualcosa di molto sbagliato nella tua vita. Oh per carità, se qualcuno di voi usa professionalmente o per hobby e tira fuori delle cose meravigliose, un valore ISO come quello, scrivetemelo nei commenti perché sono sempre aperto a imparare cose nuove. Personalmente io credo che se scatti a ISO 1002.000 stai sbagliando tutto. Però se esistono delle scene dove è obbligatorio scattare con una sensibilità del genere, se no non si riesce, vi prego, fatemelo sapere perché sono curioso. Io non ho ancora trovato un caso del genere. Detto questo, le prime macchine tendenzialmente si fermavano a ISO 1600 o 3200. Però vedete che le macchine di oggi hanno un sacco di step intermedi. Infatti noi abbiamo ISO 100, ma poi abbiamo ISO 125, ma poi abbiamo ISO 160, poi abbiamo ISO 180 e poi abbiamo ISO 200. Quindi abbiamo un sacco di step intermedi. Questo vale per gli ISO, ma vale anche per i tempi, vale anche per l'apertura. Cioè una volta la fotocamera era più gnocca perché lavorava solamente per stop. Adesso invece abbiamo la possibilità di lavorare anche per terzi di stop o per mezzi di stop a seconda della fotocamera con cui stiamo lavorando. Ora, se noi lavoriamo con degli step intermedi per i tempi, non succede assolutamente niente. Cioè una volta c'era un trentesimo, un sessantesimo, un centoventicinquesimo di secondo. Ora, se noi scattiamo a un ottantesimo, a uno step intermedio, non succede niente. Perché per quanto riguarda i tempi, non c'è una modifica sostanziale di quella che sarà l'immagine. Se scattiamo a un cinquecentesimo sarà diverso, se scattiamo a due secondi sarà diverso. Però se scattiamo con uno step intermedio tra un sessantesimo e un centoventicinquesimo, come un ottantesimo o un centesimo, non cambia niente. Idem dicasi per il diaframma, se utilizziamo un diaframma intermedio che prima non esisteva, non succede niente. Ecco però che se applichiamo questo discorso ai valori ISO, non è la stessa cosa. Perché? Perché noi abbiamo degli ISO base, che sono gli ISO più bassi che la nostra fotocamera è in grado di riprodurre. Nella maggior parte dei casi sono ISO 100. E poi abbiamo dei valori ISO nativi, quindi il valore base nativo è ISO 100. Dopodiché per tutti i valori superiori avremo dei valori nativi, che saranno quindi 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Questi sono nativi. Tutti gli step intermedi, per cui ISO 120, ISO 160, sono dei valori che non sono nativi. Quindi significa che oltre a non essere più gli ISO base, cioè i più bassi, abbiamo anche un ulteriore incremento del segnale, che è un incremento del segnale elettronico. Quindi abbiamo... Che è un incremento del segnale che non gioca a nostro favore, perché avrà l'effetto di aumentare il rumore e di diminuire la gamma dinamica. Quindi sarà un incremento peggiorativo. Per questo motivo, di recente, ho cominciato a fare degli esperimenti e ho disattivato la possibilità di gestire i terzi di stop per i valori ISO sulla maggior parte delle mie fotocamere. Vi racconto qual è stato il risultato. Il risultato sostanzialmente mi è piaciuto, perché mi sono ritrovato da un lato a cambiare metodo di lavoro, dall'altro a migliorare quello che era il risultato finale. Nel momento in cui io vado a lavorare solamente con gli ISO nativi, infatti, quello che ottengo è, da una parte ottengo delle immagini più pulite, e quindi già questo mi piace di per sé. La seconda cosa che ottengo, però, è che io vado a stabilire prima il mio valore ISO, quindi vado a determinare quali sono gli ISO che voglio utilizzare e poi, di conseguenza, vado a modificare gli altri parametri. Faccio un esempio. Sono a fare un evento, è un esempio reale, sono a fare un evento in un locale dove c'è un bartender che sta presentando dei cocktail. Vado a selezionare ISO 800 e mi rendo conto che è un pochettino troppo buio. A questo punto che cosa succede? Se io avessi potuto aumentare di un terzo di stop gli ISO, l'avrei fatto, e quindi avrei ottenuto un'esposizione corretta, ma avrei avuto una resa, una rumorosità non ottimale. Per cui che cosa succede? Io vado a selezionare direttamente ISO 1600. Questo che cosa comporta? Innanzitutto che l'immagine a questo punto è quasi troppo chiara, perché un aumento di stop da ISO 800 a ISO 1600 è abbastanza potente, non è un terzo di stop, è uno stop intero, per cui improvvisamente ho tanta luce ed ecco che improvvisamente posso addirittura andare a chiudere un pochino sugli altri parametri. Quindi magari stavo scattando a un 125esimo che siamo lì lì per un evento in cui ci sono cose in movimento è quasi un po' rischioso. Invece io vado a chiudere a un duecentesimo di secondo ed ecco che la mia esposizione è perfetta e ho ottenuto un duplice risultato. Sto utilizzando gli ISO nativi, quindi avrò un'immagine più pulita e ho anche velocizzato i tempi di scatto, quindi avrò un'immagine più nitida perché sto scattando con uno shutter più veloce. Quindi è una doppia vittoria e questo è un modo di scattare che mi è molto piaciuto e che credo che continuerò a utilizzare. Quindi questo non significa che disabiliterò per sempre i terzi di stop per i valori ISO. Attenzione, ci sono dei casi in cui potrebbero farmi comodo, però innanzitutto sto cercando di abituarmi a tenerli spenti. Quindi sto cercando di lavorare solamente con gli ISO nativi perché è una buona abitudine secondo me. Perché avere troppa personalizzazione, in questo caso digitale, quindi è una cosa non nativa, è un'interpolazione, è una cosa che non mi piace. Forse sto cominciando a invecchiare, rimango un po' ancorato a quelli che erano i regimi dell'analogico, che comunque io conosco perché ho cominciato a scattare a pellicola. Quindi queste digitalate, queste cose tecnologiche a me piacciono, però bisogna vedere dove ti portano. Perché se ti portano a essere più comodo mentre stai scattando, perché dici ok faccio meno fatica, tanto basta che giro una rotella ed è già tutto in bolla, va bene. Però se poi una volta che arrivi a casa il risultato è peggiore, ecco che io preferisco tornare a lavorare come una volta. Quindi preferisco fare il mio bel ragionamento e avere magari meno possibilità di personalizzazione sui valori ISO, però avere un'immagine più pulita quando arrivo a casa. Inoltre, per come ho visto che si comporta la macchina, questo mi aiuta anche, mi aiuta anche perché a un certo punto se io aumento i valori ISO di uno stop intero, mi ritrovo con un po' di margine sugli altri parametri, quindi dove prima magari ero tiratissimo, che dicevo ok, ISO 800 f2.8, un centoventicinquesimo di secondo, che cosa faccio per guadagnare un po' di luce? Allora da ISO 800 vado a ISO 920 e vado a un centesimo di secondo per avere un pochettino più di luce. Così che cosa succede? Che ho aumentato il rumore e che ho una fotografia con del micromosso perché sono sotto un centoventicinquesimo, quindi è una situazione non ottimale. Invece che cosa succede se io da ISO 800 passo a ISO 1600? Succede che improvvisamente ho tanta luce e quindi addirittura potrei chiudere un pelo il diaframma per avere magari un pochettino di nitidezza in più e potrei diminuire i tempi di scatto in maniera di nuovo da avere un'immagine più nitida e avere meno possibilità di mosso o di micromosso. È una doppia vittoria, capite? Vi racconto questa cosa oggi non per dirvi fate esattamente come me, vi racconto questa cosa per dirvi che c'è la possibilità di farlo, che è una cosa molto interessante secondo me. Queste sono le cose belle del digitale perché nel momento in cui arriva una miglioria, quale che sia, io apprezzo tantissimo la miglioria, l'implementazione tecnologica, veramente l'apprezzo tantissimo, ma apprezzo tantissimo anche la possibilità di tornare indietro. Quindi la possibilità di dire, e non ci vuole niente a farlo, è una striscia di codice, non ci vuole niente per chi produce macchine fotografiche, è una cavolata da fare, la possibilità di farmelo disattivare. Così come cose come per esempio anche il display touch, bellissimo, tutte cose bellissime, però datemi la possibilità di non usarlo, datemi la possibilità di disattivarlo a mio piacimento. Ed è proprio il caso degli incrementi di terzi di stop sui valori ISO. Io sono grato ai produttori di macchine fotografiche, io parlo di Canon ma penso ci sia su quasi tutte. Sono veramente grato per la possibilità di disattivare gli incrementi di terzi di stop sui valori ISO. Perché è una questione che mi ha aiutato a capire, io vedendo quest'opzione mi sono proprio detto ma perché l'hanno messa? Allora ho voluto capire e il motivo è questo. Il motivo è che può essere comodo avere la gamma completa, la gamma digitale completa, ma può anche essere molto molto bello, molto più efficace utilizzare solamente i valori nativi, quindi non il valore base. Se usiamo solo il valore base come confessione, facevo anch'io all'inizio, io quando ho cominciato a fotografare io avevo il pallino, si scatta solo ISO base, solo ISO 100, se scatti ISO 200 hai fallito. È molto limitante lavorare così, ti ritrovi molto spesso a dire va bene, e mi ricordo era proprio il caso mio, io mi trovavo a dire ok, ISO 100 non si tocca, tutto diaframma aperto e magari vado a scattare a un quarantesimo di secondo e mi viene comunque buia, però così sono riuscito ad avere ISO 100. Era una scelta pessima, tiravo fuori delle immagini che non andavano mai bene, erano mosse, l'illuminazione comunque non andava bene, la profondità di campo era sbagliata, era proprio uno degli scenari peggiori possibile. Invece lavorando con gli ISO, anche aumentandoli, io riesco adesso ad avere delle immagini di cui sono assolutamente contento, con un rumore assolutamente gestibile, però sto lavorando in maniera molto più efficace. Magari tengo ancora tutta apertura sul diaframma, però tengo dei valori di shutter che sono giusti per portarmi a casa quella foto e non ho più paura di lavorare a ISO 800, a ISO 1600, anzi certe volte, magari quando lavoro con full frame, questo è il vantaggino della full frame ancora rispetto alla PSC, vado anche a 3200 e lavora bene la macchina, lavora bene perché aumentando di uno stop, oltretutto sto esponendo a destra, quindi esponendo a destra vado a minimizzare il rumore che di solito si trova nelle aree più scure della mia immagine e ho margine per ripristinare comunque l'esposizione corretta, se diventa troppo luminosa ho questo margine per chiudere un pelino il diaframma che magari non fa mai male, oppure per diminuire un pochino i tempi di scatto che anche quello non fa mai male. A questo punto amici vi chiedo, fatemi sapere voi come scattate, conoscete questa tecnica, preferite avere la massima gamma e quindi potervela giocare magari anche in automatico lasciando fare alla macchina e non vi interessa il risultato, però ci credo poco perché molti mi dicono che il loro più grave problema è gestire il rumore in macchina, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate su questo argomento, fatemi sapere se scattate in questo modo o in un altro modo, ci vediamo nei commenti e ne riparleremo anche negli shorts, io vi ricordo di iscrivervi al canale perché se mi fate una domanda o un commento io spesso rispondo con dei video brevi, quindi se poi non siete iscritti magari ve li perdete, per cui il bottone è qui sotto, aspetto i vostri pollici, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.